Stasera ci hanno aiutato tantissimo e si lavora giornalmente per vivere queste serate che mancavano da tanti anni. Il mister parla, 3 a 3, sempre con la sofferenza, ed è il tucco. Sentiamo il tucco. Arrivare in semifinale era un sonno per noi, una grandissima felicità che avevo meritato. E poi il semifinale è tornissimo per me nel momento che stiamo passando, quindi siamo contenti e andiamo a questa semifinale per fare la mia vita. Bene, in derby Mfica, 3 a 3, ci siamo persi un po' eh, ma forse siamo rilassati, perché il risultato era acquisito più o meno. Ci confermiamo. In Champions, ci confermiamo buona squadra, semifinale. Derby. L'ultimo me lo ricordo, l'ho visto abbastanza bene, mi ricordo il ritorno. Ero con un amico in pizzeria. Un pareggio è fuori. Non me lo scorderò mai. Ci dobbiamo vendicare questa volta, speriamo bene. Adesso testa a campionato. Questa sarà buona prestazione, non ottima, non ottima. Ma il tucco, il tucco si sta ripetendo davvero. L'ho detto già l'ultimo, il meno peggio è stato il tucco. Vamola.